Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Six minutes. Give them one more time. I gave that 5.30 if you have it close. No, six. A minute to allow. Six. Back. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Sì, sanno la fai! Sì! Sì, fai a man! 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 Sì! All the way! may! Sì, fai a man! Sì! Sì! Grazie. 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 ural. Grazie. Box out. Yeah, you guys box out, see? Yeah, you got box out. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Come on, come on. 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 Come on, 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 come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.